Bravo Però partiamo con le presentazioni prima Un altro appauso per il nostro special guest stasera Nektas Alla batteria Tia Al basso, Jack D Alla chitarra, una versione cicciona di un guardian angel Ma io ovviamente cerco di cantare Alla chitarra, una versione cicciona di un Siamo in un'altra 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 versione cicciona di un Grazie a tutti 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 Grazie a tutti